un damerino vario pinto e sciocco è il protagonista al centro di questa scena vestito di rosa con le braghe squarciate come dettava la moda di allora il nostro ragazzotto tende il palmo della mano all'austera donna alla sua sinistra che si appresta a leggere il futuro guardandolo dritto negli occhi la donna anche una gallina ingrediente necessario si sa per ogni magia la testa penzola gli fuoriesce dalla tasca il giovane però non guarda la donna la testa girata indietro chiamato da un tizio che gli intima di fare attenzione lo mette in guardia lo distrae non è chiaro il ragazzo tiene alta e salda la borsa con la sinistra ma nel frattempo uno scognizzo scalzo nascosto dietro le sottane della veggente alleggerisce lo sprovveduto di una catena d'oro la catena esce fina dalla tasca inguinale del bellimbusto una tasca gonfia e mezzo aperta quel filo d'oro a significare che a seguire gli istinti ci si pente spesso una donna più anziana dello sfondo a destra segue la scena compiaciuta l'arrescamento è riuscito è una scena di taverna quella che illustra leonello spada autore di questo dipinto le osterie della roma barocca piena di prostitute ladri ubriachi e fattucchiere erano care agli artisti che seguendo l'esempio del caravaggio vi cercavano la realtà della vita vissuta luoghi dove gli sprovveduti potevano farsi leggere la mano per cercare di conoscere il futuro mentre il presente si prendeva gioco di loro ma leonello non ci travolge con l'umanità folgorante delle figure caravaggesche la sua messa in scena è tutta di facciata un balletto sul palco stretto del proscenio è un'illustrazione più che un coup de foudre un ammonimento più che un doloroso rimorso 辦 il proscenio con un malattia valore e 20 minuti Grazie a tutti